Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera su F1 2020, dopo il prologo, andato in scena nelle prime due puntate, adesso è il momento di fare sul serio. Questa è una carriera realistica dove voglio fare tutte le cose al massimo del realismo e quindi chiaramente non vado a cominciare direttamente in Formula 1, ma vado a disputare la stagione completa del campionato di Formula 2 del 2019 e se la Codemasters rilascerà la Formula 2 2020 prima che io completo quella del 2019 farò anche quella del 2020. Per disputare un campionato intero di Formula 2 devo cominciare la carriera quella non My Team ma la carriera quella classica. Il mio intento è una volta finita la stagione o le stagioni di Formula 2 della carriera pilota, poi quando debutterò in Formula 1 debutterò con la carriera scuderia, con una mia scuderia. Iniziamo quindi carriera pilota, scegliamo il nostro pilota, che tanto la tuta, tanto penso che sarà la tuta della squadra per la quale sceglierò di correre, ho modificato solamente il casco. A differenza di F1 2019 qui su F1 2020 si può scegliere di disputare anche l'intera stagione di Formula 2 all'interno della modalità carriera ed è proprio quello che vado a scegliere, così almeno avrò il mio nome e il mio personaggio che salirà eventualmente sul podio invece di scegliere, di sostituire un pilota, di correre per conto di un pilota reale. Ad esempio nella carriera su F1 2019 ho corso tutto l'anno con il nome e le fattezze di Arion Mani, stavolta fortunatamente ho l'opportunità di scendere in pista con il mio nome e le mie fattezze. Eccoci qua la schermata di selezione del team, io ho pochi dubbi, scelgo il team Prema, un team italiano dove starò in squadra insieme a Mick Schumacher e sostituirò Sean Gheleil, quindi un pilota non certo non è un top driver, quindi non è una grande perdita per il campionato non avere in pista Sean Gheleil, quindi vada per il team Prema. Molto bene, chiaramente andiamo a impostare tutte le impostazioni al massimo realismo possibile, perché questa vuole essere una carriera realistica, quindi qualifiche complete, gara feature race 100% di lunghezza, sprint race 100% di lunghezza, livello di difficoltà 102, quello solito che uso sempre ormai da F1 2019, niente flashback, regola del parco chiuso sì, cioè non si può modificare il setup per fare qualifiche gara, danno al massimo, safety car sì, e sarà meglio che ci sia davvero quest'anno la safety car, non come su F1 2019 che non c'era, quando ho fatto il campionato di Formula 2, taglio curva normale, perché quello rigoroso è troppo rigoroso, basta che esci fuori pista di un millimetro e ti dà taglio, temperatura gomma, superficie interno e aiuti, chiaramente tutti disabilitati. Ok, completata la prima e unica sessione di prove liberi, il miglior tempo l'ha fatto Antoine Joubert con il mio compagnolo Mick Schumacher, che ha ottenuto il terzo miglior tempo, io invece ultimo tempo a un secondo e nove dalla miglior prestazione, chiaramente questa è la prima volta che guido la Formula 2 qui su F1 2020, chiaramente devo un po' prenderci la mano, sono a quattro decimi dal penultimo, sicuramente nel taschino c'ho ancora un po' di qualche decimo, anche perché è piuttosto umiliante piazzarmi dietro a Mahaver Ragunathan, quindi per le qualifiche nella maniera più assoluta devo fare molto meglio. È il momento di fare sul serio, siamo qui in qualifica, il problema però è che abbiamo un solo set di gomme morbide per la qualifica, come fra l'altro era già su F1 2019 in Formula 2, quindi posso fare solamente un run, anche perché qui le soft durano veramente poco, solamente 14 giri, tanto vale quindi che il run lo faccio a fine sessione. ultimo tentativo, ultimo tentativo qui in qualifica, sono in 19esima posizione, ma se ho letto bene nel giro precedente sono solamente a poco più di tre decimi dalla pole, se ho letto bene, questo sarebbe abbastanza clamoroso, il problema è che qui le gomme morbide hanno una durata di soli 14 giri, quindi praticamente ogni giro perdono tantissima prestazione, perciò sarà molto difficile migliorare il tempo che ho fatto nel primo giro, anche se appunto essendo il primo giro chiaramente non è stato ottimale, perché era il primo giro in assoluto che facevo qui su F1 2020 con la macchina di Formula 2 con le gomme morbide, visto che nelle libere ho usato solamente le gomme di mescola media, quindi non è escluso che io possa migliorarmi devo stare attento qui in accelerazione, ah pensavo avesse perso molta più aderenza la gomma rispetto ai giri precedenti, invece ho avuto un'accelerazione decisamente pulita, occhio qua che è in agguato il sottosterzo ne sono uscito bene però, anzi anche meglio rispetto a, molto meglio rispetto a quello che è il mio best lap che avevo fatto al primo giro, quando queste gomme qui erano ancora 9 di zecca, sto togliendo quasi 4 decimi e se ho capito bene dovrei essere in nota per la pole, se veramente è a basso di 4 decimi se davvero i piloti sono tutti racchiusi in circa 3 decimi di secondo, lo scoprirò a breve, mi sto abbassando di 5 decimi e quindi sarei in pole, andiamo a vedere? Andiamo a vedere? No, 14esimo, 14esimo, allora forse avevo capito male io l'indicazione del giro precedente, meglio così, meglio così perché se mi fossi qualificato in pole position avrei dovuto alzare il livello di difficoltà perché non era assolutamente normale che mi qualificassi in pole position con la limitatissima esperienza che ho su questa macchina la pole position l'ho ottenuta il giapponese della Carlin Nobuharu Matsushita il mio compagno di squadra Mick Schumacher si è qualificato in quinta posizione, io 14esimo ma a 6 decimi dalla pole position quindi per essere la prima volta che sto guidando questa macchina qui sul freno 2020 direi che è un risultato di cui non mi posso assolutamente lamentare in ultima posizione il mitico Maver e Raghunathan che comunque l'hanno fatto anche troppo forte perché si è preso solamente un secondo e tre dalla pole position l'hanno fatto decisamente molto 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 più forte di come è nella realtà Davide, Davide Valsecchi vediamo se c'è davvero Davide Valsecchi si quest'anno è davvero la sua voce grandi questa è davvero la voce di Davide Valsecchi l'anno scorso invece la voce di Davide Valsecchi era falsa completamente falsa comunque diamo un'occhiata alla griglia di partenza griglia che abbiamo già visto chiaramente ma diamogli una bella ripassata Latifi che pronuncia è? eccolo lì Maver Raghunathan guardatelo che sguardo fiero strategia di gara 21 giri con le gomme medie 11 giri alla fine con le gomme soft noto però con estremo disappunto che c'è ancora il problema che c'era lo scorso anno riguardo al carico di carburante guardate lì sotto il carico di carburante è predefinito e quindi il gioco mi costringe a prendere il via della gara con benzina per fare 37,6 giri nonostante la gara sia di 32 giri e anche quest'anno si ripropone il problema che c'era l'anno scorso che mi fa partire con un carico di benzina esagerato onestamente sono deluso dal fatto che non abbiano risolto molto bene eccoci qua pronti per iniziare la nostra carriera qui in Formula 2 si spengono i semafori via partiti chiaramente partiamo male perché abbiamo le gomme di mescola media la più dura fra le due disponibili prudenza qui in curva 1 non è prudente invece Ragunatan che si infila all'interno il mitico Mahaver Ragunatan si butta come non ci fosse un domani recupera una marea di posizioni occhio qui che chiaramente non ho mai guidato questa macchina con il carico di carburante nelle prove libere anche nelle prove libere il carburante è fisso non ti fa modificare il carico quindi le prove libere ti fa guidare con il serbatoio quasi vuoto quindi non so come si comporta la macchina col serbatoio pieno devo stare calmo e prudente in queste prime fasi di gara sarà una prima parte di gara abbastanza sofferta perché io ho le gomme medie gli avversari hanno le gomme soft quindi almeno per 5-6 giri i piloti con le gomme soft dovrebbero andare molto più forti di me e poi in teoria dovrebbe arrivare l'usura delle gomme soft e da un certo punto in avanti dovrei iniziare a essere più performante io rispetto a loro errore qua errore vado un po' a cavallo del cordolo in fase di ingresso curva e purtroppo la Tatiana Calderon mi punisce sopravvanzandomi e relegandomi in penultima posizione Ralf Boshung ha il DRS nei miei confronti penso che mi arriverà a superare senza nessun problema infatti mi sopravvanza lungo il rettilineo vediamo se riesco ad attaccare a contraattaccare qui all'esterno e riprendermi la posizione vediamo qui nella controcurva successiva Ralf Boshung è ancora affiancato ma il DRS ce l'ho addirittura io e questo potrebbe aiutarmi a completare il controsorpasso occhio qui però non finire lunghi perfetto controsorpasso completato attenzione ci sono bandiere gialle ci sono bandiere gialle lungo il rettilineo successivo c'è una macchina che si sta per fermare ma non soltanto una tante ma cosa sta succedendo ritiro per Jordan King e ci sono macchine che si fermano così in mezzo alla pista cosa fa giuro che non ho capito molto qui è addirittura Ragunatani in retromarcia giuro che non ci ho capito niente di quello che è successo ma il pilota che si è ritirato era Jordan King era lì davanti quindi tutto quell'assembramento di piloti fermi non c'entrava niente col pilota che si è ritirato boh c'è da fare qualche piccolo affinamento per quanto riguarda l'IA anche se F1 2020 è ormai uscito da parecchi mesi ci sono ancora però questi problemi degni di un gioco in fase alfa in tutto questo comunque ho recuperato fino al 15esimo posto e adesso ho anche il DRS nei confronti di Jack Aitken inoltre siamo nel sesto giro quindi potrebbe arrivare a breve il calo prestazionale delle gomme soft quindi a breve potrei anche diventare più veloce io rispetto ai piloti con le gomme soft cioè praticamente tutti mi sa che sono l'unico che ha scelto di partire con le gomme medie ma che stai dicendo è 8 decimi il compagno di scuderia è entrato in box quindi iniziano le soste dei piloti con le gomme soft beh sì chiaramente siamo all'undicesimo giro quindi sì ci sta ed è proprio il momento giusto perché mi stanno iniziando veramente a dar fastidio a fare da tappo quindi sarà una cosa molto positiva quando si toglieranno di mezzo infatti ecco che vanno ai box Heitken e Latifi ma tutti vanno ai box vanno praticamente ai box tutti quindi sono primo sono primo chiaramente mi devo fermare anch'io prima o poi sono stato l'unico a sfalsare la strategia a scegliere di partire con le gomme più dure ma un altro pit per Mick Schumacher perché ha danneggiato l'ala ha danneggiato l'ala Mick Schumacher ha avuto un incidente ecco perché vai box insieme anche a credo sia Dorian Boccolacci che anche lui ha danneggiato l'ala va a dire gialle c'è un pilota dietro di me che sta avendo problemi mi sa Hilot che è stato superato da Hubert vediamo qua intanto Calum Hilot che va a perdere il controllo della macchina lui che era terzo viene colpito da Antoine Hubert entrambi hanno danneggiato la macchina no solamente Hubert solamente Hubert ha fatto tutto da solo Hilot ha fatto tutto completamente da solo errore individuale al 100% da parte sua ne ha fatte le spese però a Hubert che ha rotto la macchina ed è proprio questo che mancava su F1 2019 ovvero gli errori di guida individuali dei piloti dell'IA che non sbagliavano mai praticamente si ritiravano solamente per per guasto tecnico invece abbiamo visto un pilota Calum Hilot che ha commesso un errore di guida individuale è nato in sovrasterzo in uscita da una curva e si è intraversato venendo colpito da un avversario questa cosa qui su F1 2019 non è mai successa men che meno in Formula 2 in Formula 2 mi sono sempre lamentato su F1 2019 che in Formula 2 non succedeva niente i piloti erano proprio sembravano degli zombie baggaggiavano per la pista quasi senza fare dei sorpassi fra di loro senza fare degli incidenti senza fare degli errori senza che arrivasse mai la safety car non succedeva veramente niente invece qui abbiamo visto un errore individuale di un pilota che ha coinvolto un altro pilota una cosa che non si era mai vista su F1 2019 quindi brava Codemasters si è inserito anche l'eventualità che un pilota della IA commette un errore di guida questo è un grossissimo passo avanti per quanto riguarda il realismo mi è raggiunto intanto Novoro Matsushita che mi va a sopravanzare con l'ausilio della DRS e anche soprattutto con l'ausilio di gomme più nuove delle mie non è certo contro di lui che sto lottando io mi devo fermare ai box per la mia sosta alla fine di questo giro dovrei rientrare secondo le previsioni che fa il gioco in tredicesima posizione ma poi avrò per gli ultimi giri per la seconda parte di gara avrò le gomme soft nuove contro le medie usate che avranno i miei avversari i miei avversari si sono fermati all'undicesimo giro undicesimo barra dodicesimo giro quindi vuol dire che loro negli ultimi giri di gara avranno gomme messe esattamente come sono messe le gomme che ho adesso quindi avrò un passo molto superiore molto più veloce rispetto a quello dei miei avversari penso che quasi certamente farò il giro record andandomi quindi a prendere i due punti del giro più veloce pit stop quindi sosta che sarà molto più lunga rispetto a quella di che siamo abituati a vedere in formula 1 perché i meccanici sono pochissimi sono molti meno meccanici ancora non dare gas anche qui sul F1 2020 ancora l'ingegnere stupido che dice di non dare gas quando devi ripartire ma non le correggono queste cose ma perché perché non le correggono comunque si riparto in tredicesima posizione proprio come mi aveva predetto il gioco invece no perché c'è un pilota che mi sta affiancando spero che non mi vada a colpire è proprio Mahaber il mitico Mahaber Ragunatan che mi scavalca e sono quindi quattordicesimo ma ho gomme molto superiori gomme soft nuove contro gomme medie usate che hanno gli avversari quindi in quest'ultima fase di gara sarò di gran lunga il più veloce in pista e ho tutte le potenzialità per recuperare molto vicino molto vicino qui a Mahaber Ragunatan che prova a proteggere l'interno io vado all'esterno tiro la staccata sul pilota indiano e completo sorpasso all'esterno vediamo un po' però chi ha il DRS perfetto ce l'ho io ce l'ho io ottimo perché se ce l'aveva lui ce l'avesse avuto lui mi avrebbe potuto risuperare e ora ho 5 secondi da recuperare su Boshung che è davanti a me però commetto un errore arrivo lungo attenzione Ragunatan che può contraattaccare mi devo abituare mi devo un po' abituare adesso a come si guida con le soft ok ho raggiunto il terzetto di piloti qui davanti devo stare però attento in fase di sorpasso perché gli avversari hanno gomme così tanto più consumate così tanto più lette delle mie che hanno punti di frenata ai traiettori e in certi casi molto diversi da quelli che ho io ma devo anche sbrigarmi a fare i sorpassi perché a ogni giro la differenza prestazionale fra le gomme soft e le gomme medie diminuisce ok adesso qui ho molta più velocità rispetto all'Alf Boshung arrivo ad attaccarlo addirittura all'esterno sfruttando le gomme più nuove chiaramente le gomme soft e riesco a sopravanzarlo li porto quindi in dodicesima posizione e il prossimo è Louis Deletra vediamo adesso con la scia se riesco a guadagnare qualcosa in confronti del pilota svizzero molto vicino protegge l'interno Louis Deletra allora io vado all'esterno provando ad aggirarlo sfruttando chiaramente il maggior grip delle mie gomme ora qui nella controcurva successiva ancora Deletra non molla ma riesco a completare il sorpasso forse ho il DRS ho il DRS io su camera perché evidentemente camera è meno di un secondo di distacco c'era però anche il buon Louis Deletra che prova a contrattacare all'interno e si gira e si gira vediamo un po' se è colpa mia Deletra all'interno ah no è salito sul cordone e mi è rimbalzato addosso non è colpa mia molto vicino molto vicino anche a Sergio se c'è camera che occupa la decima posizione attenzione camera frena molto presto e l'avevo detto che dovevo stare attento mamma mia che rischio l'avevo detto che dovevo stare attento al fatto che avendo gomme molto più consumate delle mie hanno punti di frenata molto diversi e ho rischiato clamorosamente di silurarlo da dietro ok adesso direi che il sorpasso è decisamente maturo lo vado ad attaccare qua all'esterno prendendomi anche il DRS in questo rettilineo qui perché sono passato dietro di lui a detection point anzi sono ancora dietro di lui comunque sia ciò il DRS e lo passerò in maniera completamente indolore andandomi a prendere quindi la zona punti ecco qui in staccata non dovrei avere problemi visto che ho gomme molto più performanti delle sue rilasso comunque lo spazio all'interno qualora qualora avesse provato insomma a resistere e adesso sono decimo con 7 secondi di ritardo dal pilota che è nono da Juan Manuel Correa e esco da Latifi quindi direi proprio che la mia rimonta con tutta probabilità si interrompe qui attenzione qua un errore mamma mia che rischio mi ripasso a camera e chiaramente stanno iniziando a consumarsi anche le mie gomme giustamente hanno meno grip comunque calma c'è solamente camera perché il pilota che è nono Latifi ha un vantaggio enorme quindi devo concentrarmi semplicemente su Sergio secchi camera e ho tre giri e mezzo di tempo per ripassarlo quindi calma e sangue freddo ai lot si migliora migliora il giro record calma ai lot me lo va a togliere e allora devo cercare di migliorare il mio best lap devo cercare di migliorare il mio best lap non posso farmi battere da un pilota che ha le gomme alle gomme medie e allora per cercare di riappropriarmi del giro record vado a sfruttare il DRS che mi concede secchi camera e spero che questo questo giro sia più veloce di quello che ha fatto segnare adesso non mi ricordo già più chi l'ha fatto segnare però insomma spero con questo giro di andare a riprendermi il giro record del 42-1 Hubert che ha gomme leggermente più nuove degli altri perché lui ha fatto una sosta in più avendo danneggiato l'alettone anteriore a gomme medie un po' più nuove e quindi Nobuaru Matsushita va a vincere la prima gara di questa stagione io finisco decimo senza giro record purtroppo comunque se ottengo un punto che come inizio non è male pilota del giorno Guangyuzhou il cinese della Univirtuosi graditissima sorpresa alla fine appunto i due punti del giro record me li prendo io perché i piloti che hanno tenuto un giro record migliore del mio sono tutti finiti fuori dai primi dieci e quindi qua qui in formula 2 il punto del giro record va assegnato sempre e comunque evidentemente quindi se il pilota che ha ottenuto il giro migliore è fuori dai primi dieci vanno ad assegnare i due punti del giro record a chi ha ottenuto il miglior tempo fra i primi dieci classificati cosa che in formula 1 invece se non sbaglio non succede in formula 1 se l'autore del giro record finisce al di fuori dei primi dieci il punto non viene assegnato per niente quindi ottimo ho tre punti anziché uno bene così quindi il vincitore come detto è Nobuaro Matsushita una gara dominata da parte sua pole position e vittoria 11 secondi 6 di vantaggio su Carlo Milot che ha perso tanto tempo per quell'errore che ha fatto quando è stato poi anche centrato in pieno da Antoine Hubert Hilot è stato fortunato non da adeggiare la macchina però comunque ha perso parecchio tempo poi ho completato da Nick Deveria autore di una bella rimonta dopo che era partito decimo bel quarto posto anche per Ghiotto grandioso quinto posto per il pilota Trident Giuliano Alesi seguito poi da Mazepin Zou Correa Latifi Nono e io decimo a circa 40 secondi dal leader una buona gara considerando che era la prima gara che devo riprendere un po' la mano con la Formula 2 devo dire che è data bene sono anche finito davanti al mio compagno di squadra Mick Schumacher perché è stato coinvolto in un incidente quindi ha fatto una sosta in più dietro di me fuori dai punti Sechi Camera Boshung il mitico Mahavere Ragunathan che ha disputato una grandissima gara l'hanno fatto troppo forte perché Ragunathan che finisce tredicesimo su 18 piloti classificati è impossibile è praticamente impossibile addirittura mi è finito a 8 secondi solamente di distacco l'hanno fatto troppo forte decisamente troppo forte al buon Mahavere Ragunathan si tiene dietro quindi la Tatiana Calderon e anche Luide Letra che finisce solamente il quindicesimo e poi staccati anche Juber Boccolacci Schumacher che sono stati costretti a fare due soste per errori e incidenti in cui sono stati coinvolti hanno danneggiato la macchina hanno dovuto fare una sosta ritirati Jack Eitken e Jordan King mentre per quanto riguarda la posizione in classifica il campionato è decisamente semplice rispetto a quello che è l'ordine d'arrivo di questa gara mentre il campionato dei costruttori cioè non costruttori chiamano delle squadre e dei team vede la Carlin in testa con 29 punti seguita dalla Art poi la Junior Team della Sauber e via via tutti gli altri noi della Prema chiaramente abbiamo solamente i tre punti che ho ottenuto io perché Mick Schumacher è finito fuori dai punti molto bene quindi per questo episodio è tutto l'appuntamento è per la prossima puntata dove andrò a disputare la gara sprint di questo weekend del Bahrain partirò dalla decima posizione visto che sono arrivato decimo e bene quindi ci vediamo alla prossima puntata Grazie a tutti